Fogne e depuratori da ricostruire, i danni dell'alluvione, fossati pericolosi, le segnalazioni dei cittadini, lanci di escrementi contro l'ospedale, indaga la polizia, 160 analisi al giorno, dai nostri rubinetti sgorga acqua d'alta qualità, biodigestore Vallefoglia chiede la modifica del progetto. Buona serata a tutti voi. Poi pubblico di Rossini TV, ben ritrovati al nostro telegiornale, al nostro Rossini News, spazio informativo serale che vi tiene compagnia come sempre dal lunedì al venerdì con prima edizione alle 19.40. Telegiornale di giovedì 29 settembre che apriamo occupandoci ancora delle ferite dell'alluvione sul nostro territorio. Ve l'abbiamo ricordato in questi giorni, più volte ferite umane come sono quelle delle 12 vittime che ha creato l'alluvione nell'Anconetano e ricordiamo siamo anche al 14esimo giorno di ricerche dell'ultima dispersa, la 56enne Brunella Chiou. Però anche ingentissimi danni materiali dal territorio di Cantiano devastato ma anche a importanti infrastrutture della provincia che andranno ricostruite, come ci ricorda l'amministratore delegato di Marche Multiservizi in questa intervista con cui apriamo il telegiornale. Noi ci siamo attivati fin dal giovedì sera, giovedì notte, abbiamo lavorato in continuità per ridurre al minimo i disagi alle persone, alle famiglie, ai territori. Abbiamo provveduto in 2-2-4 a fornire acqua con autobotti in modo tale che questo aspetto almeno fosse alleviato, stiamo lavorando in continuità e in collaborazione con tutti gli altri soggetti che operano sul territorio, in comune in primis, la protezione civile, i vigili del fuoco e diciamo che ci siamo adoperati soprattutto in primis per il tema del gas perché era un tema anche di sicurezza e questo era un tema difficile a Cantiano ma in contemporanea al rifornimento dell'acqua idropotabile, alle famiglie, alle case, attraverso autobotti, attraverso collegamenti volanti. È chiaro che tutto questo poi dovrà avere dei ripristini definitivi che in alcuni casi abbiamo perso sorgenti, alcune sono sepolte da 5-6 metri di detriti quindi è stata una cosa devastante e l'aspetto più complicato è sicuramente l'aspetto fognario depurativo che come sapete è un sistema che molto spesso lavora vicino o addirittura nell'alveo dei fiumi quindi abbiamo tratti di condotte fognarie veramente trasportate via quindi di velte che saranno tutte da rifare e andrà valutato anche se rifarlo nello stesso posto creare una situazione impiantistica più definitiva e più sicura così come alcuni depuratori sono veramente fuori uso e quindi c'è un tema che io ho anche evidenziato alle autorità perché c'è un tema anche igienico-sanitario del fiume quindi è un tema molto rilevante e tutto questo sicuramente richiede tempo, risorse ma anche capacità progettuale cosa che stiamo già lavorando. E parlare di alluvione significa anche parlare di prevenzione, un tema che ci viene sollecitato da una delle segnalazioni di voi telespettatori, segnalazione che arriva dal territorio di Apsel di Montelabate e che andiamo a comprendere meglio nel servizio realizzato dal nostro Edoardo Razzi. La tragedia dell'alluvione che ha colpito il 15 settembre scorso alla regione Marche ha portato alla luce un grosso problema che è presente anche in tante altre zone. La manutenzione dei fossi e la pulizia degli argini sono una serie di interventi che a maggior ragione dopo quanto accaduto devono essere il prima possibile portati a termine. Un problema evidente che non può più attendere quanto c'è stato segnalato in questi giorni da un residente di Apsel del comune di Montelabate che insieme ad altri cittadini lamenta la presenza ormai da diversi anni di rami, piante e sterpaglie che intasano il fosso Apsela, il fosso che poi sfocia nel fiume Apsa. Preoccupazione evidente visti gli esiti di dieci giorni fa a Senigalli e Cantiano su tutte, soprattutto da parte dei cittadini delle abitazioni a fianco del torrente. Circa tre settimane fa, dunque qualche giorno prima dell'alluvione, a seguito di una forte pioggia il livello dell'acqua lungo il fosso si è alzato prepotentemente, arrivando fino al muretto della residenza accanto. Un torrente è quello che scorre ad Apsela sotto piazza 25 Aprile che versa da decine di anni in uno stato di abbandono, degrado e pericolosità e il comune di Montelabate, responsabile dell'area coinvolta, dovrà dare il prima possibile una rapida risposta alle richieste dei cittadini. I lavori sono stati fatti 50 anni fa più o meno, di messa in sicurezza e una certa pulizia con interventi in cemento, mi ricordo anche bene, forse con contributo alla regione. Dopo poi per la pulizia periodica all'inizio, i primi 8-10 anni hanno cercato di tenerlo abbastanza bene, poi è passato il tempo sempre meno, adesso le cose poi col tempo si degradano, le piante crescono, gli arbusti, i crolli, non è stato più fatto quasi niente. E' un problema che chi di competenza deve assolutamente risolvere il prima possibile. Speriamo che lo faccia il comune, io so che hanno preparato, hanno fatto il bando, hanno preparato tutto, però ancora non si vede nessuno, aspetteranno che piove così non lo fanno più. Un ammasso di rami e foglie che oltre al pericolo che potrebbe creare in caso di forti precipitazioni vede la presenza di animali pericolosi come vipere o enormi ratti che a volte si intrufolano dentro le abitazioni vicine rompendo zanzariere ed estando preoccupazione. Anche a livello estetico, anche di malodore, a volte c'è acqua ferma, putrificata lì d'estate magari non è che sia un bel vedere come paesaggio, ma anche a livello che non so, si possono dare anche animali dentro, tutto quello che uno vuole perché è un po' allo stato brado. Specialmente quelle due signore che stanno proprio lì sotto, che già l'hanno avuta e hanno paura, io dico che sarebbe ora di pulirlo. Grazie a tutti. L'acqua che sgorga dai nostri rubinetti è di un'alta qualità certificata da un controllo costante misurabile in 58.000 analisi dell'ultimo 2021. Concetti e numeri ribaditi dall'appuntamento annuale del report di Marche Multiservizi in Buone Acque. Si tratta di un rendiconto giunto all'ottava edizione che invita la cittadinanza a riflettere sul consumo idrico andando oltre la fredda lettura delle bollette, evidenziando una spesa di un euro e mezzo al giorno per una famiglia pesarese di tre persone. In Buone Acque è dunque un'occasione per far capire come l'acqua dei nostri rubinetti abbia una qualità certificata da 160 analisi al giorno effettuate nell'ultimo anno. Un anno in cui Marche Multiservizi ha investito 21 milioni di euro nel settore idrico. Delle volte la sensazione è che ci richiedono tanti dati, tante informazioni, ma quelle veramente importanti no. Per cui noi abbiamo il dovere di evidenziare e di far capire qual è il lavoro che l'azienda fa per il settore, per l'approvvigionamento e per la gestione. Insomma, quindi a partire dalle analisi, perché 160 analisi al giorno, la qualità dell'acqua che viene riportata nelle bollette ma che spesso non ci si fa poca attenzione. Per cui ecco, il grande lavoro che c'è dietro a una gestione corretta e ottimale dell'acqua anche quegli aspetti che sono un po' più noti, perché lo ricordiamo, cioè il livello di investimenti rispetto alla media nazionale, rispetto ad altri territori. È l'occasione per sfatare il fatto che l'acqua del rubinetto non si può bere. Direi che le centinaia di migliaia di analisi che facciamo all'anno dimostrano che è un'acqua di buonissima qualità, che rientra nei parametri medi delle acque minerali e che, sapete che ci sono dei limiti imposti dalla legge per quanto riguarda i valori, noi siamo al 20%, quindi l'80% sotto questi valori previsti dalla legge, quindi è un'acqua veramente tranquilla e l'auspicio è che gli investimenti e l'impegno che viene dedicato in questa direzione trovi anche poi una sua concreta attuazione, cioè nel senso che investiamo tanto, lavoriamo tanto, però l'acqua del rubinetto è ancora bevuta da troppo a poche persone e continua a bere acqua minerale che costa molto di più e inquina molto di più. Ed è una qualità dell'acqua certificata al pari dei benefici alle tasche dei cittadini. Una famiglia di tre persone che beve acqua dal rubinetto risparmia infatti circa 480 euro l'anno. Ad oggi è salito al 31% il numero dei clienti di Marche Multiservizi che beve acqua dal rubinetto, una cifra che ha evitato l'immissione di 17 milioni di bottiglie di plastica. Con 2,9 euro noi portiamo nelle case delle persone, delle famiglie, mille litri di acqua e poi la depuriamo anche attraverso le fognature depuratori, quindi con 2,9 euro, mille litri di acqua minerale costano circa 250-260 euro. Siamo qua a mettere i puntini sulle IA, ricordare che il costo dell'acqua è un costo mediamente a livello nazionale basso che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista andrebbe aumentato perché l'aumento della bolletta non è un tabù ma è necessario per continuare a lavorare sul miglioramento della rete, quindi di nuovo sulla riduzione delle perdite idriche e anche su un approvvigionamento che ci metta in sicurezza rispetto ai periodi di emergenza come quello di quest'estate, quindi le siccità che non sono più emergenze ma che sono situazioni inordinarie, per cui è necessario avere consapevolezza di questi elementi per poter continuare a gestire in maniera sempre più ottimale queste risorse importantissime del nostro territorio. Capiamo argomento e parliamo di cronaca e in particolare di un reiterato episodio di vantalismo che sta prendendo di mira l'ospedale San Salvatore di Pesaro. Per la seconda volta, in meno di una settimana, il San Salvatore di Pesaro è stato oggetto di un atto vandalico barbaro, un lancio di escrementi contro la struttura ospedaliera. Un gesto che ha imbrattato sempre lo stesso luogo, le scale del padiglione F che costeggiano via Oberdan. Due episodi analoghi e in entrambe le occasioni il personale dell'ospedale si è accorto di questo imbrattamento, avvertendo la direzione che, a sua volta, ha allertato la polizia. Forze dell'ordine che stanno indagando. Fra i sospettati ci sono i diversi senza fisse dimore malviventi che gravitano giorno e notte attorno all'area dell'ospedale e all'attigua stazione ferroviaria. Sembra infatti che qualcuno abbia scavalcato la recensione di via Oberdan per poi impegnarsi in questo insensato lancio di escrementi. La polizia sta vagliando le immagini di videosorveglianza e ascoltando eventuali testimoni. L'area dell'ospedale è regolarmente controllata dalla vigilanza, soprattutto nella zona più sensibile come quella del pronto soccorso, ma allo stesso tempo è molto vasta e complicata da fornire un monitoraggio completo, soprattutto nelle ore notturne dove già in altre occasioni sono stati rilevati furti o bivacchi interni. Al di là del caso di questi giorni si sta vagliando la possibilità di aumentare la presenza di telecamere nella zona. La Guardia di Finanza è stata oggi insegnita ad Urbino di due importanti riconoscimenti, quello della cittadinanza onorare al corpo delle Fiamme Gialle e quello del sigillo d'Ateneo dell'Università conferito dal Rettore Giorgio Calcagnini al Comandante Generale Giuseppe Zaffarana che nell'occasione ha tenuto anche un Alexio Magistralis dal titolo Il ruolo della Guardia di Finanza nell'attuale scenario economico-finanziario. Un riconoscimento che approfondiremo nello speciale realizzato da Rossini TV che andrà in onda lunedì 3 ottobre alle 21.20. E torniamo ad occuparci del caso del biodigestore anaerobico che dovrebbe sorgere a Vallefoglia nella zona industriale di Talacchio. Nella scorsa settimana il sindaco Palmierucchielli ha inviato una lettera a Marche Multiservizi per chiedere che il progetto venga modificato. Vediamo i dettagli e le motivazioni di questa richiesta. Se c'è un tema che nella provincia di Pesaro Urbino e in particolar modo nel comune di Vallefoglia sta tenendo banco da diverso tempo è quello legato al biodigestore. Tra l'essere d'accordo o meno sulla costruzione di un impianto anaerobico e compostaggio di rifiuti in un'area agricola di 12 ettari nella zona di Talacchio, occorre prima ribadire quali funzioni potrebbe avere questa struttura. Si tratta di un impianto di circa 40.000 metri quadri presentato dall'azienda Green Factory volto a trattare esclusivamente alcune tipologie di materiale. I rifiuti organici prodotti dalle abitazioni, bar e ristoranti come cibi ed alimenti raccolti in maniera differenziata e gli scarti da sfalci e potature derivanti da giardini privati e pubblici. La capacità massima di trattamento di questi rifiuti prevista per l'impianto è di circa 105.000 tonnellate all'anno, finalizzato a ridurre al minimo l'impatto ambientale. Sul territorio provinciale attualmente non esiste alcun impianto simile per la trasformazione e recupero di rifiuti, costringendo le aziende del settore ad esportare gli scarti differenziati in altre regioni, sottraendo al territorio risorse economiche importanti. Situazione che poi si ripercuote nelle bollette per imprese cittadini. Un progetto che non a tutti va a genio, come all'associazione Diversamente, che in questi anni ha raccolto più di 5.000 firme per segnalare, a detta loro, le preoccupanti ripercussioni che il digestore porterà all'ambiente. Un digestore che, secondo il gruppo, sarebbe sovradimensionato rispetto al proprio fabbisogno, portando con sé gravi ripercussioni alla salute dei cittadini. Sovradimensionalità che negli ultimi giorni ha attaccato anche il sindaco di Vallefoglia, Palmiero Ucchielli, a seguito dell'approvazione recente di un altro biodigestore nel territorio di Fano. Proprio per questo, Ucchielli settimana scorsa ha spedito a Marche Multiservizi una lettera per rivedere il progetto che sorgerebbe a fianco della zona industriale di Talacchio. Si sono persi 5-6 anni che era collocato a Fano, votata la conferenza dell'autonomia all'unanimità e quindi si evitava anche di avere un altro impianto privato. Una volta autorizzato l'altro impianto privato va ridiscussa la dimensione, vanno fatte tutte le opere per la sicurezza, la viabilità, la mobilità e diversamente il nostro parere sarà un parere contrario. È chiaro che l'interlocuzione deve essere un'interlocuzione seria, affidabile e che si facciano le cose come vanno fatte nella piena tutela della salute dei cittadini, nella tutela dell'ambiente, nella sicurezza e nella mobilità di tutto quanto serve in una comunità. Quindi questo è il senso di quella lettera condivisa dalla Giunta e quindi speriamo che ci sia questa disponibilità a fare le cose come vanno fatte e diversamente non si fanno. Il Conservatorio Rossini di Pesero organizza dal 3 all'8 ottobre all'Auditorium Pedrotti la settima Masterclass internazionale di canto lirico tenuta da José Carreras. Alla Masterclass parteciperanno 27 cantanti provenienti da Cina, Giappone, Stati Uniti, Messico, Georgia e Italia, selezionati da una commissione artistica composta dallo stesso Carreras, dal maestro Lorenzo Bavai e dal direttore del Conservatorio Fabio Masini. Sabato 8 ottobre all'Hotel Excelsior alle ore 18 si terrà anche un concerto finale che vedrà la partecipazione dei migliori allievi della Masterclass. E sabato 1 ottobre a partire dalle 9 di mattina fino a sera la Biblioteca Braille di Baia Flaminia accoglie la terza edizione di Papageno per una giornata dedicata a attività e laboratori gratuiti per bambini da 0 a 13 anni sulla musica e sulle tematiche legate all'inclusione sociale. Il Festival di Libera Musica dunque si sposta quest'anno dalla consueta sede degli Ortigiuli per dare il via a note di quartiere. Il progetto che è stato ideato da Baia Flaminia, Soria, Tombaccia e Santa Maria delle Fabrecce, vincitrici del bando quartiere capoluogo della cultura per l'edizione 2022-2023. E sempre sabato 1 ottobre alle ore 18 nell'anfiteatro all'aperto del Borgo di Novilara l'Associazione Culturale La Stele presenta il libro Borgologia, Spopolamento e Reviviscenza dei Borghi Italiani. Un libro che analizza uno studio antropologico di Donato Antonio Telesca edito da Editric Hermes. La presentazione moderata da Antonino Di Gregorio sarà occasione di dibattito sul futuro dei borghi attraverso gli interventi della consigliera comunale di Villeneuve a Osta Miriana Perron, dell'architetto beni culturale e paesaggio Roberta Martuffi e dalla scrittrice Cristina Ortolani. E dopo il rinvio a causa del lutto dovuto all'alluvione nelle Marche, Marche Storie arriva a Cartoceto nelle date rinnovate di sabato 1 e domenica 2 ottobre recuperando l'appuntamento con la secolare storia che lega Venezia a Cartoceto. In epoca malatestiana, infatti in cambio della protezione della potenza veneta dalle minacce di Pesaro e Senigallia, la cittadina adriatica riforniva la serenissima di olio per l'illuminazione di Piazza San Marco e degli appartamenti del Doge, molto del quale olio proveniva proprio da Cartoceto e dal borgo di Ripalta. Una storia che sarà ripercorsa attraverso spettacoli, mostre, percorsi culturali e naturalistici, aperitivi e cene tematiche per narrare l'orlio come fonte di luce, gusto e bellezza. E invece questa domenica 2 ottobre nei locali parrocchiali dei Cappuccini a Pesaro si terrà l'open day per i candidati al coro delle Grillo d'Oro come ci viene ricordato in questo video che vi mostriamo. Ti piace cantare? Scoprirai che farlo in un coro è ancora più bello. Vieni domenica 2 ottobre all'open day del coro del maestro Gabriele Foschi. Per informazioni sul luogo orario chiama il numero 331 370 7646 o scrivi una mail a infocchiocciolagrillodoro.com. Ti aspettiamo! E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News, notiziario che come di consueto concludiamo ricordandovi alcuni appuntamenti sulla nostra emittente. A cominciare dalla prima serata di questo giovedì dedicato ad una commedia teatrale, nello specifico vi mostreremo Uomo e Galantuomo realizzata dall'Associazione Culturale Teatro dei Dioscuri in onda alle 21.20. Altro appuntamento teatrale è quello che vi mostreremo invece domani sera alle 21.20. Venerdì 30 settembre vi riproporremo lo spettacolo teatrale Soundfield de Luce attraverso le poesie di Carlo Pagnini accompagnate dalle musiche del direttore del Conservatorio Fabio Masini. E ancora domenica 2 ottobre tornano le funzioni religiose in diretta su Rossini TV. In questo caso l'appuntamento è alle ore 16 con la Santa Messa di imposizione del Paglio all'Arcivescovo presiderà la funzione l'Annunzio Apostolico in Italia Monsignor Emil Scherrig. E infine vi do appuntamento domattina alle 7.20 come sempre in diretta con la rassegna stampa Buongiorno Rossini nella quale sfogliamo di buon'ora i quotidiani locali della provincia di Pesero Orbino. E dunque vi aspetto domattina per Buongiorno Rossini mentre Rossini News si conclude qui. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.